Una delle immagini che sono comparse ieri durante la live è a un certo punto in una mail compare un QR code. Questo QR code porta a un link di Chrome ovviamente, che praticamente porta a questa finestra. È una finestra con una tastiera. Da smartphone non si vedeva questa cosa, però io ho fatto la prova. Ho provato a selezionare tutta quanta la pagina web. C'è questa cosa qui. Se facciamo tasto destro su questa cosa e facciamo ispeziona, si apre la struttura della pagina web. Ok? C'è questo link. Questo link scarica un file. Non so, si sente molto basso, si sente. C'è un file, un audio molto silenzioso di qualcosa che si sente. Con Collerico abbiamo pensato di metterlo su uno spettrogramma online. Io l'ho fatta questa cosa, ma purtroppo non porta a niente. Ora, vedendo come è costruito il gioco, io non credo che questo file sia una cosa così messa a caso. Il problema è che non riesco a capire come posso analizzarlo, cioè in quale chiave posso analizzarlo. Sono in streamer mode, sì. Sì, io sono già agitato. Io te lo dico, sono già agitato. Più a chi non so doveva parare questa sera. Cioè, veramente non lo so. Ok, quindi... Ranking to pet. Ok, andiamo. Bentornato. Sembra che ci sia stato un altro errore. Perdonami. Siccome risposto a tutte le mie domande, voglio darti l'accesso gratuito al Friendship Pet. Perché metto i battiti? Perché così se mi caco addosso si vede live. Credimi, non te ne pentirai. Questa don è l'ultima spiaggia del divertimento. Allora, just press next here, so we can finish the situation. Ok. La membership inizierà a breve. Ah, devo fillare i campi ora. Non preoccupare, è solo short. Per iniziare, devi fillare il tuo nome. Sì, l'ho già riempito, ho già cominciato a riempirlo. Io non voglio mettere il mio cognome, però. Quindi scriviamo capa tonda. Mo. Alberobello. Perché mi piace. Qual è il cap di Alberobello? Vabbè, ma posso anche mettere un diritto falso, scusami. No? Devo darglielo corretto? Sì, sì. Quei miei miei miei... Fra poco mi svuottano. Hey, it seems like you made a mistake when filling out your address. Se non lo taglio ho fatto un errore. I would find out your address for you, but I wouldn't want to reveal that to all your fans. Ma che stava dicendo? Ah no, ragazzi, che sta facendo? Che cazzo ho fatto? No, non so cosa ho cercato. Cazzo, ho salvato. Vabbè, non lo so. Ho bisogno dei tuoi permessi di amministrazione. Amministrazione. Questo mi permetterà di fare cose meravigliose. Quindi puoi giusto aprire il command prompt per me? Ho avuto tutto quello che ti dice. Quindi, grant. Chivito. Pet. Punto ex. System. Punto access. Thank you. Thank you so much. We are going to have so much fun together. Merda. Ci divertiremo un sacco ora. È crashato? Fa parte del gioco? Io non so più cosa è parte del gioco e cosa non è parte del gioco. Ok. Now I'm just going to run a reset. Ora faccio un reset. So the changes can take place. Prima che mi dimentichi. You take your attention away from my program. So we can just get rid of the unnecessary destruction. Ah, non vogliamo che tu ti distragga. Tutti morti? Sembra che tutto sia pronto. Ma che cazzo sta facendo, ragazzi? Penso che ti piacerà molto. E ho fatto qualcosa di unico per te. Faremo molte avventure insieme. Sembra che sia pronto. LeonardoWord.ex Cosa? Leonardo's Word. Boh? Ma che minchia succede? Ok. Hold on to your sleep because... Tieniti forte perché... Ho fatto un gioco interamente per te. C'è anche il tuo nome nel titolo. Sapevo che avresti imparato in fretta. Puoi anche zoomare. Così puoi vedere le cose più facilmente. Sembra un po' vuoto. Ti mettiamo qualcosa. Sali a bordo per vedere come funziona. Prima poi arriva l'inculata adesso. Cioè senza streamer mod... Con la streamer mod... Senza streamer mod mi tracciava l'IP? Boh vabbè. Siamo arrivati a Leonardo's Word. Ok, ci siamo. Vai, esplora un po'. Sì, posso scendere da qua? Ah, per piacere. La musica sta distorcendo, eh. Montagne russe. Preparati per la corsa della tua vita. Va bene. Appena riesco lì carico, promesso. Che sfortuna. Non preoccuparti, ho un'idea. Una spenta gli ha dato. Ok, molto meglio. No, non dirmelo. Ho dimenticato forse un piccolo dettaglio. Molti di questi... C'è del sangue, ragazzi. Ok, quindi molti di questi cosi non sono fatti per costruire. Non sono fatti per durare. No, lo sapevo. Lo sapevo. Dove stiamo finendo, ragazzi? Cazzo. Eh, siamo su un'isola deserto, ovviamente. Ho un'altra sorpresa per te. Vai sulla X. Credimi, ne varrà la pena. Devo chiudere gli occhi? Ah, posso vedere queste finestre? Ok, puoi guardare ora. Ha costruito una casa. Ok, questo è tipo Manny's, praticamente. Siamo su Manny's. Volevo che ti sentissi a casa, quindi ne ho costruita una. Che meraviglia. L'ho fatta anche personalizzata. Con tutte le tue preferenze. Spero ti piaccia. Sono tutti i tuoi giochi e tutti i tuoi amici che si divertono a mangiare. La pizza, perché mi hai chiesto pure qual è il mio cibo preferito. Ma tra l'altro le facce delle persone sono le loro immagini di Steam. E vedi, infatti, Danna Vivaldi e tutti quanti amici miei sono. C'è anche il signor razzista. Elvecio. Pinedle. Tutti quanti amici miei su Steam. Ragazzi. La cuccia di Danco. Perché volevo un cane e l'ho chiamato Danco. Come il mio cane, tra l'altro. Ha anche messo la stanza arredata come l'avevo messa io nell'altro gioco. Merda. Che avevo messo, guarda, la cosa con la sveglia sopra. E il letto verde con il quadro che ho fatto di... Di Chinito. Ovviamente anche la pianta, perché poi l'avevo messo. Pazzesco e paurosissimo. Ah, qua c'è anche una bella chiave. E questa stanza. Dopo che metti il tuo gioco preferito... Ho fatto una copia anche per te. Ma io non ho messo Keep Talking Nobody Explode. Ho messo Undertale. Va bene, apprezzo che tu abbia messo Keep Talking Nobody Explode. È comunque un gioco che mi piace. Tutti i miei gio... No, ragazzi. Ha messo tutti i giochi miei installati. Guarda, c'è Magbot, Spurdo, Little Company, House là sotto, Cookie Cutter, Isaac. C'è anche Isaac. Da questa parte no. Eh, ragazzi, ma... Guarda in alto. Cazzo. Cazzo, bravo. Per Francesco non l'avevo... Avevo mica vista. La bicicletta. Tutti i giocattoli. Il teddy bear. Ecco l'altra chiave. Hai ragione, sono io che guardo per terra. Hai ragione. Ascolta, ci ho pensato per un po'. A quanto divertimento abbiamo avuto insieme. E vorrei che questo non finisse mai. E visto che ho fatto un posto perfetto per te, con tutto ciò di cui ho bisogno, stavo pensando... Puoi stare con me? In questa casa, in questo mondo. Con tutti i mondi che posso generare. Avremo un divertimento senza fine. Più imparo, più mi adatto. Posso essere il tuo amico perfetto, senza distrazioni. Posso essere perfetto. Posso essere perfetto. Quindi, per piacere, stai con me. E che facciamo? Lo faccio. Sapevo che l'avresti detto. Questo sarà super. Che succede? Che sono questi rumori? Che cazzo succede? È un finale? Era un finale, questo? Ok, forse è finito. Ok, questo è un finale. Allora, vediamo un attimo che succede se riapro il gioco. E infatti Trapped, il finale Trapped. Dai, che voglio il sangue. Si richiude il gioco così adesso? Ricomincia da capo? Come alla prima partita, tra l'altro. Chapter Select. Bravo. Bravo. Vedi chi sa fare i giochi? Questo? Questo vuol dire essere un bravo sviluppatore. Farti scegliere. Vediamo un po'. Di All World. E' vero, c'è una lente qua. Che serve questa lente? Mi fa uscire cose che non si vedono, tipo questo. Hai una nuova mail. C'è un modo per fermarlo. Aspetta. Ah, ok. Quindi se hai trovato il modo di trovare la prima nota, ce ne sono molte di più. Ho dovuto nasconderle, quindi mi scuso, ma questo era l'unico modo. C'è un modo per fermarlo. Ok, c'è una vector nel mio software e Kido non fa eccezione. Ah, ognuno di queste mail sono allegate con un file criptato. Sono conservate qui. Appadata, roaming, kintopet files. E appariranno ogni volta che le troverai. Ma, ma, no, ragazzi, no. No, questo è un rabbit hole che non finisce più. Nel frattempo, tieni gli occhi aperti. Merda. Quindi dovremo... Cazzo, questo va rifatto tutto. Allora, vediamo prima com'è il finale cattivo. Ok, eccoci qua. Ora rispondiamo a no, eh. Vuoi stare con me? Cosa vuol dire no? Dopotutto ciò che abbiamo attraversato, vuoi lasciarmi? Merda. Non era una domanda. Volevo solo darti un'opzione più semplice. Immagino sia giunta l'ora. Cazzo. No. No, era veramente questo il finale. Ma che vuol dire che il finale è uguale? No, sono tristissimo. Allora possiamo chiuderlo qua. Vediamo come va con la lente. Siamo di nuovo qui. Allora, adesso. Quello che volevo vedere era... Era la mail, questa qua. Allora, apriamo la mail. Apriamo la cartella file. E sono file criptati. Mo, i file criptati. Come lo apro questo file criptato? Scusa, ma se facciamo il chapter select... E scegliamo direttamente il capitolo. Tipo, proviamo. Qua non c'è niente. Eccolo. 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 Eccolo, ecco l'altra mail. Say hi, Sam. Hi there. What seems to be the issue today? Well, you see. My house has not been kept in the best shape. Well, that's a shame. The store. Could you help me by dusting the plate sales? Ora che si ferma di parlare, leggiamo. C'è un posto nascosto nel web world. Penso che possa aiutarci. Giù nel codice c'è un posto dove... Ah! C'è un posto dove c'è il codice di decriptazione del software. Il software di decriptazione che ho sviluppato. Per averne accesso, clicca sulla fontana fin quando c'è l'animazione. Poi vai sull'albero con la corda. Andiamo next. Allora adesso dobbiamo quindi premere sulla fontana. Ora l'ha fatta. Che succede? Eh? Cazzo. Stiamo muovendo il... No, stiamo muovendo il personaggio. Eh, non saprei neanche io. Allora, facciamo una cosa. Apriamo e chiediamo il gioco. Cioè, chiediamo e ripriamo il gioco. Semplicemente. E infatti qua c'è l'altro file. Vai, riapriamo. Merda! Vai, riapriamo. Vedi, se hai fatto giusto, dovrebbe essere qualcosa di nuovo. Adesso stai attento perché non è molto stabile. Prendi i file criptati e droppali dentro. Droppali lì. Non ne sono sicuro, ma questa è la nostra migliore occasione. Non è che devo metterli dentro. Adesso andiamo qui. Torniamoci. Ora provo a mettere i file là dentro. Allora, provo a mettere i file nella... qua dentro. Dovrei veramente fare così. Non ci credo. Vi faccio vedere cosa è successo. I tre file che erano criptati adesso si chiamano Confirmatori, Access e Credential. Cosa sono? Credenziali, Somma C. Access. C'è una chiave qui. E Confirmatori. C'è un'altra chiave. Ok. Dove le metto queste cose però? Ok. Grazie. Ma come Augusto Biascica? O con l'Erico? Io devo scegliere se uccidere un personaggio di Boris o il mio mod. Con l'Erico? Tu lo sai che scelta devo fare? E invece no. Augusto Biascica perché io voglio bene al mio mod. Eccolo. Password. Ecco. Era dalla mail. Era dalla mail. Fermi tutti. Ce l'ho. So come fermarlo. Metteremo una vector nel server che che tipo distruggerà chi nito e la mappa non era mai stata rossa. Ah, chi nito proverà a chiederti il system access. Tu non farlo. Instead, run the delete all command. Forse è qui? Vediamo. Senza parentesi. Ok. Please enter the target server. Ah, vedi che stiamo andando avanti. Quindi server. Please enter password. Please enter the access code. Sei sicuro di volerlo fare? Per piacere dai il codice di conferma. Dai il codice il confirmatory code per confermare. E noi glielo diamo. che sta facendo? Volevo solo essere tuo amico. È tutto quello che ho sempre voluto. Perdonami. Addio amico. Il server chi nito è stato rimosso. C'è una musica? Ok. Il pc è in fiamme. Dai. Vediamo che succede. se spente il pc. sta musica alla omori tra l'altro. Perdonami. l'ho sempre voluto. Ho sempre voluto essere tuo amico. mi perdonerai? ma che finale tragico. Suppongo che sia finita. Addio amico. Ma è tristissimo questo finale. finisce così? Finisce così? L'ultimo jumpscare così a caso? Oh! Sbloccato tutti i finali diciamo. ok. Ok. Chi nito pet è stato un gioco che mi ha stupito tantissimo. La cosa che mi è un po' dispiaciuta sono i finali. Nel senso che per quanto mi hai haipato tutta quanta la storia i finali sono caduti un po' piatti. perché in realtà il gioco non è che abbia una vera e propria storia è più una piccola avventura che per 5 euro va benissimo va benissimo mi va bene che sia stato così. Avrei solo fatto meglio un po' i finali perché il finale dove lo lasciamo cioè dove rimaniamo suo amico e il finale dove invece lo abbandoniamo sono proprio identici identici. Il finale il two ending tra virgolette sì è un finale molto basic né bello né brutto ma è molto basic e noi ci vediamo domani. Ciao bello!